Walter Smith, responsabile Automotive Europe del gruppo NSG, ha uno sguardo sicuramente d'insieme su quello che accade nel continente. Com'è la situazione per il vostro gruppo per quanto attiene all'automotive? Va bene, oggi la situazione è un po' complicata, come sappiamo, perché la industria automotrice non è quella che va bene. Dopo la Covid ancora non ha recuperato un 100%, quindi noi dobbiamo aspettare anche che il mercato faccia questo approccio più vicino a quello che noi abbiamo pre-pandemia. Questo è molto importante anche per noi, perché la crescita del mercato è quello che garantisce anche la nostra produzione. Un altro punto importante è che noi dobbiamo capire anche la produttività, anche la competitività, e questi sono punti veramente importanti, come la competitività, come noi siamo con i competitori, i nostri costi. Costi che in questo periodo noi sappiamo che ha sofferto molto, molto con le inflazioni della regione, con le inflazioni del mondo dopo la Covid. Quindi noi dobbiamo guardare tutto questo, dobbiamo fare il meglio, dobbiamo fare tutto il lavoro possibile per abbassare questo costo. Non è solo un, come posso dire, non è solo i plant che deve fare questo, noi abbiamo anche uffici acquisti che devono lavorare forti per questo, anche i commerciali, sull'altra parte, che devono anche lavorare con i nostri clienti per rispicchiare tutta questa situazione. Perché non è normale questa situazione in questa regione, quindi io parlo di Europa, quindi la inflazione qua non è una cosa normale, però noi dobbiamo trattare di fare bene e superare questo periodo. Sembra di essere vicino a uno spartiacque, quello dell'auto elettrica. Per il gruppo NSG quanto è impattante questo passaggio all'elettrico? Va bene, prima noi dobbiamo capire il mercato, se il mercato va sull'elettrico, se non va sull'elettrico. Quindi ci sono tante informazioni che loro fanno, loro, dico, i clienti fanno investimenti e dopo si vede che c'è qualche pensiero sulla macchina elettrica. Però questo è un passo, come possiamo dire, un'opportunità per noi. Anche noi stiamo preparando le innovazioni che noi abbiamo bisogno per seguire questo mercato, che è anche un mercato molto importante. E può essere che dopo 2030, 2035, 2032, quello che sia, perché questa è anche una regola di ogni governo che noi abbiamo, però dobbiamo essere preparati per servire la industria automotrizia. Lei, per chiudere, ha sicuramente una visione maggiore sull'Europa. Spesso sentiamo dire che l'Italia è in forte rallentamento rispetto ad altre nazioni, per quanto riguarda l'innovazione tecnologica anche per un futuro elettrico. È così? Io non conosco bene la situazione in Italia, però ci sono altri paesi che vanno avanti, però io penso che questo dipende molto dalla politica economica che abbiamo in quello paese. Io non penso che sia un problema d'Italia o sia un problema di un altro paese. quindi anche il paese deve prendere la sua strada per la decisione più corretta di quello che fa. Però io penso che arriverà il tempo dell'Italia, quindi se l'industria, se i clienti vanno sulla macchina elettrica, anche l'Italia deve essere adattata per andare sulla macchina elettrica. Però io penso che è un tempo, solo tempo che questo arriverà. Grazie a tutti.